Una delle mete più belle è Vindicio, sulle cui acque, immerso nel verde, si affaccia a uno dei complessi più importanti dell'area formiana, una sontuosa villa che fu eretta nel secolo XVIII. Costruita sui resti di un'antica dimora, forse appartenuta al celebre oratore Cicerone, divenne nel 1852 Villa Reale Borbonica. La baia di Vindicio è incantevole, piena di imbarcazioni a vela, si presenta agli appassionati di windsurf e kitesurf come uno dei principali luoghi dove praticare questi sport, grazie al miglior spot termico del Lazio dovuto alla barriera costituita dalla catena montuosa degli Aurunci, che consente ai venti di incrementare nelle ore pomeridiane la propria intensità. Durante tutto l'anno vengono organizzate importanti manifestazioni nautiche e regate veliche.